... un po' troppo sincero e non troverà mai una verità, mentre sia un'altra verità. Qua c'è gente che ha un ascensore nella testa, una scappia di fattore, da un giro in un giro in 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 giro. Il punto importante è quasi una valgina, un jiro in giro in giro, di diventare le mani cose in giro 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 in giro. And I hope we'll bebroxide from one to one to the rest tong And I hope we'll bechair every moment to the rest of Wiriss And we'll beeu'll be neighbour And I'm trying to figure that if we don't survive away And I'm trying to figure that if we don't survive away And I'm trying to figure that if we don't survive away And we're just perfect to get to you C'è gente che è così umana Nei fatti frutti del destino Non troverà mai una novità Nemmeno se gli passerà vicino Non è che si deve sbagliare il fronte della vita E pensa solo al passato Non ci possibilità di rumpurare che si muoverà da poco di giorno Se vuoi la copa di un paletto Non è che si deve sbagliare il fronte della vita E pensa solo al passato Non è che sia una camminata Non è che pensa solo a te Non è che c'è un'esố E non è che c'è una compaglia Non è che c'è unounga un po' di er just E non è che c'è unounga un po' di erimo Grazie a tutti Grazie a tutti